12 ore trascorse negli studi della Filmauro sono bastate per dire sì alla proposta di Aurelio De Laurentiis. Rafa Benitez sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio, seppur smentito categoricamente dal presidente azzurro, arriva nel giorno del compleanno del numero 1 partenopeo. Deciso così a farsi un regalo importante, sostituire Walter Mazzarri, passato nel frattempo sulla panchina dell'Inter. Dopo aver guidato il Chelsea alla vittoria dell'Europa Liga ad Amsterdam, conquistando così il suo terzo trofeo europeo al quarto a livello internazionale con altrettante squadre, il tecnico madrileno approda nel golfo con la speranza di guidare gli azzurri ad una gran cavalcata europea la prossima stagione. L'accordo biennale da 3 milioni e mezzo, proprio come Mazzarri. Era lui dunque il tecnico che iniziava con la M annunciato da De Laurentiis su Twitter, il cognome materno infatti è Maudes. Poco da attendere dunque, manca solo un tweet in più.